A tutti gli amici sportivi del CDM semifinale Serie A, ma attenzione, proprio quando prendiamo la linea con Dario Porto il tiro prende all'esterno della rete, illusione ottica del gol 0-0 tra Al Capriccio e Red Devils una bella partita fino ad ora, a dire il vero, le emozioni non sono proprio abbondate qui tanto c'è un contatto tra Salvo Consoli e Antonio Rapisarda nulla di pericoloso, secondo Angelo Nicolosi si può comunque continuare a giocare pallone che è andato adesso sul fondo laterale 0-0 il risultato parziale, frutto comunque di un equilibrio per adesso dei conti abbastanza normale diciamo che nessuna delle due squadre finora meriterebbe il vantaggio anche se i Red Devils da qualche minuto si affacciano con più costanza Giugno è stato comunque impegnato una volta, più di una volta, su un tiro comunque centrale la stessa cosa Pulvirenti su una punizione, su un pendente che appunto Pulvirenti, l'ottimo Pulvirenti ha respinto con i pugni si riparte quindi 0-0 con Dario Porto, bellissimo qui lo stop, il dai e vai con Gianluca Romano un tema abbastanza ben utilizzato per i temi d'attacco dell'Al Capriccio qui siamo sul versante destro, Consoli cerca fortuna ma trova una selva di gambe l'ultima di Maurizio Magnino, intanto qui il tiro di Ragusa nella rete era comunque Rosario Motta ed è stato Rosario Motta a portare in vantaggio i Red Devils siamo quando corre già buona metà del primo tempo quindi si scuote la partita al Capriccio 0, Red Devils 1, al Capriccio sotto la squadra che ha raccolto 22 risultati utili consecutivi qui al CDM, intanto Pulvirenti su tiro di Rosignoli io farei subito il primo break e poi diamo la linea a Salvo Forana quindi al Capriccio 0, Red Devils 1